Ieri hanno tirato le monedine alla russa perché lassù il Parlamento ha mandato a quel paese figli e non si fa così. Stanno sempre a litigare, vogliono tutto, litigano i portroni, altro che stanno solamente a pregare i soldi a tutti, questi ladroni, sono tutti segnati al libro dei ladroni questi. Hai capito? Ieri il Signore è andato a fare sceneggiare lassù per farse passare la legge sua. Sono 38 leggi che si fa passare, io ho un po' di piedi, 38 leggi che si fa passare quel figlio della mignotta. Hai capito? Che passano per lui? Ecco, lui è andato là giù se compra da villa, la gente si può comprare manco una rosetta di 20 centesimi, si deve solo vergognare di queste cose, a dire cose se compra le ville si deve solo che vergognare.